Allora, la vogliamo ringraziare la Anna che ci ha fatto questo bellissimo regalo? Grazie! Grazie! Oh, dietro uno delle osse? Tu Colin? Ma che serve questo per coprirli? Magari usa lo stesso tipo di rosa almeno? Questo? Ma perché non lo fai? Bravo Derek! E me lo metti fuori? Bravo Colin! Però mettilo bene Liam, aspetta! Guarda, mettilo bene! Guarda, Derek! Bravo Derek! Molto bene! Vai Liam! Molto bene Liam, un po' alla volta, molto molto bene! Fai vedere Colin? Ok, lavoriamo un po' sul pancione che mi sembra che ne abbia un po' tanto lì! Distribuiscilo bene, bravo! Ottimo, ottimo, bravissimi! Grazie Anna per i bellissimi regali! Avete visto che bel regalo? Guarda che belli questi dinosauri! Guarda qua! Ho finito, guarda! Guarda! È proprio come quello della figura! Dove è la tua figura? Quasi con la cresta... Serve? La cresta viola! Blu? O viola? Guarda, il blu c'è! Chiediamo a Derek che possiamo usare... No, mi servono questi qua! Sei sicura? Secondo me ti serve un po' di blu! Fammi vedere Derek il tuo bellissimo! Molto bene! Guarda, guarda! Mi serve il nero! Guarda che professionista! Mi serve il nero! Mi serve il nero! Allora, usa tutti i colori! Guarda, abbiamo un po'... Allora, il rosa ce l'hai già! Vuoi il rosso? Vuoi il giallo? Vuoi il verde? A me mi serve anche il blu! Anche il bianco! Allora, dai! Guarda, la casa è il nero!